Lei, Morazia! Ah, Samson, come va? Volevo sapere come continua la fiave di cui parlate in classe, per caso? Sì. Hai boccato, che cos'è ne perfetta. Come? Eh? No, no, niente. Il motivo per cui il castello fu raso al suolo dopo che il re ottenne l'antico vaso, la spada, la tavoletta e i gioielli ricurvi. Ah, la famosa favola, sì. E che questi tesori in realtà erano dei Pokémon. I quattro Pokémon passando i rimani in mano come tesori erano diventati un ricettacolo di cupidige umana e malasorte. Passò il contatto con la brama del re perché si scatenassero, generando terribili sciagure. Per proteggere il suo paese il re chiamò dei rinomati esperti di Pokémon che dopo un'ardua lotta riuscirano a placare le sciagure. Infine, secondo le fonti, i quattro Pokémon vennero sigillati da qualche parte a Paldea. Cosa ne pensi di sta storia? Secondo te è inventata? Oh? No, può essere. Però non li ho visti in caso. Oddio, aspetta. No, cacchio, ma io non l'ho finito. Vi ricordate quella porta viola che avevo beccato a inizio gioco? Quando mi ero perso nel primo percorso, tra l'altro. Può essere un sigillo quella. Sono lì dietro? Oh, cacchio. Io quello non l'ho fatto. Mi sa che... Allora forse adesso è aperta. Sei per spiegare? Ci ho letto e riletto una montagna di documenti storici, reso conto di disastri, diari e molti fatti sembrano avvalorare questa storia. Se dovessi riuscire a trovare una conferma definitiva, te lo farò sapere. Oh, cacchio. Io quella roba lì non l'ho fatta. Devo concludere quella... Devo concludere quella roba lì. Facciamo un attimo una roba, velocemente. Dov'è? Voglio un morase di nuovo. Non c'è più? Non è in altri ancora. Forse devo spostarmi. No, però si è spostata. Cacchio. No, quello raga adesso vado a vedere. Perché se succede qualcosa bisogna fare un attimo un trick. Trick e ballac. Perché me la dà ancora qua lei? Devo riparlarci. Un momento è arrivato. Tesori portatori di sciagure. Quattro Pokémon maledetti. Esistono davvero? Pazzesco pensarci ma l'ho scoperto grazie a un giornale. In un'intervista di un carpentiere mi ha portato alla verità. Quanto pare gli esperti di Pokémon sigillano i tesori portatori di sciagure in alcuni santuari usando dei paletti sacri. Per ogni Pokémon un santuario e otto paletti piantati in giro per la regione. Otto paletti. No, aspetta, cosa che era? Per ogni Pokémon un santuario e otto paletti. Otto paletti per un Pokémon e otto paletti in totale. Boh, vabbè. Per questo pare che questo basti a contenere la potenza delle sciagure. Bello. Una spada. Estraendo tutti i paletti si potrebbero liberare questi quattro Pokémon noti come i tesori portatori di sciagure. Non vorreste dare a questi Pokémon l'opportunità di uscire dall'angustio santuario che li prigiona? No! Sinceramente no! Sì. Distruggiamo un po' al dia. Chi se ne frega tanto fa cagare sto gioco. Che anima generosa e mi sarei davvero utile. Secondo gli eredi degli esperti di Pokémon per stare i paletti bisogna avere un legame con i Pokémon. Penso che tu potresti avere le capacità giuste. Sei libero di non crederci ma ti segnerò la posizione dei santuari sulla mappa. Lo sapevo! Sono loro! Ok. Se potessi ci andare io stessa ma non posso saltare le lezioni per partire dall'avventura. Certo, farle saltare a uno studente. Per essere si sospettirebbe troppo. In un certo senso anche questa è una ricerca di tesori ma portatori di sciagura. Dai a fare qualche indagine se ti viene voglia. So cosa faremo oggi. Allora ragazzi abbiamo tutto quello che ci serve. O almeno in live siamo andati a recuperare tutti quanti i 32 paletti che ci aveva detto Morasia. 8 per ogni Pokémon misterioso, leggendario, non ho capito bene che cosa dovrebbero essere. Erano 32 paletti sparsi in giro per tutta la regione. Lì abbiamo presi tutti e abbiamo sbloccato le porte. Tra l'altro una volta che avevate recuperato 8 paletti perché erano divisi per appunto 4 sezioni ed erano 4 colori. Ogni volta che raggruppavate gli 8 paletti partiva un rumore. Cioè c'era il verso di un Pokémon che probabilmente è il verso del Pokémon che appunto andremo a sbloccare. Vola qui? Ah c'ho direttamente il vola qui. Ok. Beh. Lo sfruttiamo. Non li ho ancora visti questi Pokémon. Mi avete solamente detto guarda non andarci. Cioè eravamo in live. Non andarci adesso perché appunto parte tutta una cosa. Quindi non vederteli adesso insomma. Se non vuoi vederli. Li vediamo quindi assieme. Questo tra l'altro è il primo, non so se vi ricordate, è il primo portello che abbiamo trovato. Quando mi ero perso in giro qua per Paldea, tipo i primi episodi, ero già arrivato qua. E come vedete non ha più i sigilli. Perché quando l'avevano trovato c'era tutte le catene, non ce le ha più. Quindi. Forse avrei dovuto salvare effettivamente. Dal sentore avrei un debole suono. Questo era il verso. Adesso non mi ricordo più qual era il verso del Pokémon che aveva fatto quando l'avevi sbloccato. E allora no. Perché forse devo salvare. Ovviamente tenteremo di catturarli. Spero di non ammazzarli. Perché ovviamente sarebbe un problema. Mi darebbe fastidio più che altro. Andiamo. Non avendo falso finale, non avendo mosse che lasciano con un PS. E' difficile. Rattol. I cacchi diversi è rattol. Clang. Clang si è aperta. E' una lumaca. Wow. Wow. No. Ah, così. Mardu. No, ok. Ha morito nefasto di Wo Chien. Wo Chien. Ma che nome è? Senti lì? Wo Chien. Ma è cinese, Wo Chien. Cos'è? Che frase è? Senti lì. Vabbè. Poi la vedo meglio, ovviamente. Però è tipo una lumaca... Una lumaca strana. Che sembra abbia qualcosa... Catastrofe come mossa. Bellina. Sembra... Posso vederla meglio? Sì, già adesso. Allora, intanto c'ha quegli occhi lì. Sui rami. Che sono stupendi. Mi piace. Mi sembra una... No, era però... Era una tartaruga quella che dico io. Cioè, tipo la tartaruga che sorregge praticamente il mondo, no? Era una roba che... Non mi ricordo dove l'ho vista, tra l'altro. Era in un anime, forse. E praticamente c'era sta tartaruga che aveva una montagna sulla schiena. E sembra simile, no? Cioè, tipo... Anche questa. C'ha sta montagna sulla schiena con sta... Sto percorso che va su. Ci sta. No, non mi dispiace. Eh... Ho paura, però... Di fare danni. Troppi. Sessanta, tra l'altro. Proviamo ad un attimo... Andarci con calma. Raga, la musica è un po' di brutto. Sì, oddio. Ovviamente non è a quei livelli lì, no? Che dici... Battaglie di penni e roba del genere. Oh, mi piace un casino. C'ha anche, tra l'altro, di... Eh... E... Oddio. Non vorrei dire egiziano. Però avete capito, no? Quella... Quella cosa lì. C'ha un po' quella roba di... Com'è che si chiama? Sì, tipo le piramidi. C'ha quel ritmo lì. Oh, bravo. L'ho voluto prendere con lo scuro ball perché... A parte che sono i suoi colori, tipo. E poi è tipo buio. Perché breccia li fa super efficace. Cos'è? Tipo erba buio? Buruio erba, ok, sì. O era terra anche. Potrebbe essere erba... Oh no, erba terra no. Erba buio. Terra buio. Wo-CN. Pokémon disgrazia. Tu eri... Tu disgraziato. Riesce ad asserire l'energia di Italia e della vegetazione facendo seccare all'istante i boschi e rendendo sterili i campi. Ah, proprio un disgraziato. Ok, capito. Sì, ehm... Aspetta, sì, era... Era il coso delle... No? Cioè, ci sono queste... Però aspetta, erano gli... Oddio, non mi ricordo più. Erano gli strumenti donati al re. No? Cioè, avevano donato questi strumenti al re. E dopo che gliel'hanno donati sono successe delle disgrazie. Però aspetta, cosa che avevano detto al riguardo? Non mi ricordo più. Che erano stati rinchiusi... I po'... Gli strumenti erano stati rinchiusi dentro i sigilli. E allora gli strumenti hanno preso vita. Come dicevo appunto che... Pensavo che... Tipo Konfi... O... C'hai Meko. Quei Pokémon lì che sono diventati... Da strumenti... No, sì. Che che era? Tipot? Tipot si chiamava? Poltergeist? Vabbè, avete capito, no? Quegli strumenti che praticamente... Non hanno un'anima. Però poi vengono impossessati da uno spirito di qualcosa. E prendono vita sotto forma di Pokémon. Però sono... Praticamente degli strumenti. Quindi, praticamente... Questo qua... Era questo strumento che ha preso vita. C'è qualcos'altro dietro? Un'incisione appena visibile. Il sigillo delle tavolette ne fosse stato spezzato. Ok. Ma anche gli altri sono uguali così. C'è un buco... Un buco del genere. E... No, sì. Praticamente è un po' come se... Loro hanno messo lo strumento maledetto... Qua dentro... E... Questo strumento è diventato un Pokémon. Ha preso vita... Ha preso vita e è diventato un Pokémon. Perché io qua adesso non ci posso volare invece? Perché non ci ho parlato. Con questo qua mi avevate detto... Guarda, prima di... Prima di... Di completare gli otto paletti... Vai a parlare col santuario. E si era scritto... Vabbè, è una roba... Un po' inutile. Però, avendoci parlato col santuario... Mi ha sbloccato la possibilità di volarci direttamente. Vabbè. Il secondo... Dovrebbe essere... Non è dentro la grotta, vero? Oddio, è qua dentro? Uh, 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 uh. Figata! Bello! Si era glitchato un attimo? No, 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 Ivern. Per favore, non mi toccare. Cos'è? Chi è che mi ha preso? Non c'era, Subly, però. Me lo avete fatto... Ma sta negando! Tiratelo fuori! Tiratelo fuori, poverino! 55. Ma io sono curato, aspetta un attimo. Come sto messo a vita? Che non ho visto. Vabbè, eh... No, infatti non mi ha curato per niente. E' bello questo, non l'ho... Non c'ero mai passato di qua. Quindi, ma di sicuro. Queste erano le spade azzurre, quindi, ok. Allora c'è il colore. Spade viola era per... Per il portale viola. Spade azzurre per questo azzurro. Poi c'erano le spade gialle e le spade verdi. Vai. Ah, ok. Rattorratolo, allora è un verso base. Cioè, tipo che si muove... Che si muove tutto. Bello! Dimmi che sei fuoco. Tutti lì. Che sei fuoco? Acqua. Monilene, fastidio. Chi Yu. Perché hanno nomi cinesi? Perché hanno nomi cinesi? Non che mi dia fastidio. Però voglio capire cosa c'entra il nome cinese con la Spagna. Cioè, capite, no? C'è un attimo... Vediamo un attimo. Catastrofe. Quindi penso che da questo punto è una mossa... Eh... Oh, cucane! Penso sia una mossa peculiare di loro... Di questi qua. Eh... L'ho quasi distrutto, raga. Vola! È volante! What the fuck? Buio volante. È buio perché lotta... No, però il volante non fa danno. E allora non capisco. Forse solo perché fluttuo. Yes! Yes! Godo! Godo! Tra l'altro stavo notando... Catastrofe, praticamente, ti do gli metà vita. È come iperzanna. Buio fuoco. Un po' come un disgrazio anche lui. Presi vita quando il livore è accumulato sia nei gioielli di curvi che causarono svarati conflitti si ammantò di fiamme. I gioielli donati. Donato! No, non è un altro. I gioielli di curvi donati. Erano quelli. E cosa sono diventati? I suoi occhi, praticamente. Questa è una figata, raga. Cioè, il fatto che appunto gli oggetti donati al re siano diventati cose di catastrofe e poi dei Pokémon. Li rende una figata. Peccato che siano qua. Su, su fioletto. Allora, dov'è il prossimo? Perché mi tiene questa mappa? Qua. Terra impura. Vai, nel casino. Dove dovresti essere? Là sotto. Let's go! Verde! Quindi poi mancherebbe il giallo. Wii! Guarda l'effetto che fa. Un tornado. Abbiamo gli oggetti? Fuck. Sì. Dovrei avere un po' di ball. Dovrei averle. Oh, oh, non l'ho salvato. Fermo. Far danni. Il kilowattro è mezzo morto, eh. Quindi, un attimino. Colpa di catastrofe, appunto. Catastrofe ti fa metà vita, poi ti fa ancora metà vita, ogni volta è metà. Quindi non so se poi ti può uccidere. Se hai un PS, come fai? Boh, vabbè. Possiamo andare. Deve che versi strani che poi mi sa che sono tutti uguali. No! Sono tutti uguali. C'erano alcuni diversi. Poi ovviamente li guardiamo meglio, eh. Perché voglio vederli. Cosa è un alce? Ting. Come si chiama? Rock Lee? No, boh, non... Tu sei roccia. Tinglu! Continua a non capire il perché. Guarda, lì, cattivissimo! Ma quello è il robot di Dark Soul? C'ha il... No? Per raccogliere le ani. No, niente, ok. Boh, non stavo raggando, ci ho messo sei ore per fare tre tic, ma va bene. Questa è terra comunque. Terra buio forse, perché... Eh... KW non è effetto. Sembrava roccia perché ha fatto anche frana. La sua testa è talmente pesante che anche solo appoggiandola delicatamente a terra può causare spaccatore profondo fino a 50 metri. Per forza. C'ha il... 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 Recipiente lì, come chiama? Anche lui di Pokémon disgrazia. E ok, me ne manca uno. Me ne manca uno. Però stanno avendo dei tipi... No, beh, in realtà no, perché c'è l'erba che non è che ha molto senso. Però è tipo terra, fuoco, potevano fare volante e acqua, no? Facevano quei tipi sempre... Ehm... Che magari c'entravano anche con la... Come si chiama? La... La roba cinese lì, la... Ehm... Questa cacchiera, gli elementi, vabbè, gli elementi normali, gli elementi... Base. Ma vediamo di andare dall'ultimo, che dovrebbe essere da queste parti. Eccolo qua. Gelo lacerante. E già che ci sono, ho da comprare anche un po' di bull. Perché le ho quasi finite. Perché il robo... Il sentiero lì, il coso gelato? E il Pokémon non è nel ghiaccio? Qual è il senso? Eccolo qua. Vabbè. Abbiamo tutto. KW davanti perché cerco di paralizzarlo sempre. Anche se non ci sono ancora riuscito. Cioè, sono riuscito a avvelenare. Ehm... Infatti è morto il... Il pesce. Però non sono riuscito con... Con KW. Vabbè. Vai. Ho già salvato? Sì. Questo è l'ultimo, eh. Adesso voglio capire anche un'altra cosa dopo, ma... Prima finiamo. Perché appunto, prima di parlare di questo... Voglio vedere... Voglio finirli. Chien! No, questo è il barriot. Questo è il barriot di... Di postrata. Ma è lui? Ah, il jaguaro! Era il verso del jaguaro. Chien Pao! Non capisco i versi. Scusa il nome. Chien Pao. Cioè, va bene. Per carità. No. Oh yes! Senti lì! No, no. Mi casa... Cioè, non è che mi casa, raga. La musica... La musica, dico... È bella. Mi piace un po'... dataloto fantastica buio ghiaccio vabbè immaginavo sai com'è c'ha un attimo quel barriot vibe che proprio presi vita quando l'odio degli antichi che perirono a causa della spada si ammantò di neve le due sciaole che c'ha qua Perché sarebbe in teoria Una tigre dei denti a sciabola Però mi ricorda un po' più una donnola Con la cosa Perché appunto la corporatura snella In quel modo è tipo le donnole, no? Non è una tigre dei denti a sciabola Dovrebbe esserlo Però la tigre dei denti a sciabola è più Raikou E questo è l'ultimo Voglio vederli bene adesso Prima di passare da Aspetta un attimo Adesso riesco a rimediare anche il Pokédex In un qualche modo Voglio vederli bene perché Sono carini Cioè sapete che non mi dispiacciono per niente Questo è bellissimo C'è il lumacone cattivo Con quegli occhi dentro i rami Mi piace un casino E questo mi piace un sacco Questo ci sta Questo forse è già un po' più basilare Come design Cioè vedete questo qua tutto dettagliato Con il manto di foglie Quel percorsino lì sulla schiena I rami che fanno Prendete gli occhi Il portaocchi Questo è molto più dettagliato Questo qua È un Wuster C'è anche il fatto che tipo appunto Vedete la coda è alle stesse dimensioni Del corpo È un Wuster Non mi dice troppo questo Cioè l'avrei fatto magari un po' più Magari corposo E la coda è un po' più stretta Appunto da farlo sembrare già più una bestia Un giaguaro Le sciabole ai denti forse sono un po' troppo lunghe Non è Non è il massimo Dettagli cosa fa E va bene Questo Ci sta Più che altro è il recipiente sulla testa Che non mi dice troppo Mi sembra un po' troppo invadente Però considerando anche quanto è grosso quel Pokémon Ci può stare L'avrei fatto un po' più piccolo il recipiente forse E magari l'avrei messo sulla schiena Ci sarebbe stato meglio sulla schiena Che sulla testa No? No Questo è carino Mi piacciono i colori Questo è carino Che cosa che c'è? Cosa è? Lui è fuoco? Lui è fuoco Sì anche lui mi piace Sono tutti carini Sono tutti carini Tranne forse un po' Cienpao Cienpao non Non mi dice troppo Mi sembra molto basilare appunto Vabbò Andiamo a finire con la tizia Professoressa Professoressa Ho una cosa per te Ciao Ho trovato i tesori portatori di Shagura? Yes Ma che devo verli in squadra tipo Hai catturato a Tinglu il vaso portatore di Shagura? E anche gli altri Che meraviglia Muoio dalla curiosità Aggiungata la forma della grandezza Questo non era un vaso di uso quotidiano No Infatti non Era più un'opera d'arte Un manufatto rituale Usato per venerare qualche divinità Sì Sì C'erano due Dei serpenti anche Era davanti a un portone Quelle specie di corna E gli occhi Dovevano avere qualche motivazione Lo sento Potrebbe essere che la stessa divinità Oggetto di culto Avesse la forma di questo vaso? Il mistero si infinisce La mia seta di conoscenza Verrà presto saziata Sbaglio che ho qualcos'altro da mostrarmi Cienpao Spada portale di Shagura Muoio dalla curiosità Dunque L'impugnatura e la lama Formano due zanne Sinistra e destra Si sarà spezzata Quando si è tramutata in Pokémon Oppure era così fin dall'inizio Ma un momento Il re non avrebbe mai comprato Una spadrotta Potrebbe essere che questa arma Venisse usata In questa forma spezzata Il mistero si infinisce La mia seta di conoscenza Verrà presto saziata Verrà presto saziata In che senso però? Sbaglio qualcos'altro? Sì Uo Chien Le tavolette portatori di Shagura Che meraviglia Quante tavolette legate insieme Deve esserci scritto Un'opera lunghissima La maggior parte delle tavolette Riperite nei siti ecologici Riporta solo scarabocchi E appunti Ma sono comunque Preziosissimi Per conoscere meglio Le epoche da cui vengono Non riesco a leggere Cosa c'è scritto Ma vista la lunghezza Potrebbe essere un racconto Oppure una maledizione Mannaggia I caratteri sospediti Chissà cosa c'era scritto Per suscitare l'interesse Di un re Ah Sono tavolette Non è un percorso Uo Chien C'ha le tavolette Che girano su E ciò per c'è scritto Un racconto Una maledizione È ancora più figo Pensavo fosse un percorso Per la montagna Ok E abbiamo Cio I gioielli Portatori di Shagura Sì Il pesce Ma via dalla curiosità Gioielli ricurvi Come questi Erano considerati sacri E venivano indossati Nei riti religiosi Principalmente Se ne portava uno al collo Come Se ne portava uno al collo Come un cionolo Però ci uni a quattro Quattro Due Agli occhi Forse sono due In un occhio Due nell'altro Sono metà però Erano forse utilizzate a coppie Per esempio Per decorare orecchini e bracciali Oppure i riti Erano ufficiati Da quattro persone Chissà quelli di circostanza Hanno portato dei gioielli Usati per proteggersi Dal male A divenire Essi stessi Ricettacoli di Shagura Il mistero si infittisce La mia sete verrà presto Grazie mille E come se la storia Avesse svelato ai miei occhi Uno dei suoi misteri E trovato tutti i stori Portatori di Shagura Incredibile Non pensavo che Saresti davvero riuscito Ad arrivare a questo punto Grazie mille Samsung In realtà avrei voluto Indagare io su di loro Per ottenerli E ottenerli Da me Ma forse Solo un'anima pura Come te Poteva riuscirci No Dovevi solo aver voglia Di prendere le spade Desidero terribilmente Quei tesori Ma per ora Voglio che te ne occupi tu È il modo Il mio modo di ringraziarti Portatori con te Congiura Sei proprio interessante Samsung Ti aggiungerò alla mia lista Di persone A tenere d'occhio Ok Allora C'è da dire una cosa Con ste Diciamo Sotto Descrizioni Approfondimenti Sono già diventati Un po' più interessanti Il problema è che Non lo sono Cioè Io Ho Ho iniziato ad avere Questo problema Con i leggendari Perché non sono Leggendari Utili Cioè Io quando vedo Un pokemon leggendari Mi aspetto Di alga palchia Ghiratina Viene raccontata La loro storia Di alga creatore Cioè Non è che devono fare Qualcosa di grande Per carità Creare lo spazio Creare il tempo Creare il caos Creare il mondo Arceus O Groudon Chiogre Terra Mari Spostare continenti Reggi Giga Non è che devono fare Qualcosa di enorme Mi basta anche Che siano Qualcosa Magari Di approfondito Però No Cioè Può essere Qualcosa di semplice Come questi Quattro gioielli Regalati al re Regalati al re Che sono diventati Portarelli di Shagur E tutto Però cacchio Ma fammi una storia dietro Cioè Fammi li vedere Fammi li vivere Questi Queste storie Ma Non è una cosa Di adesso Per carità Perché Io Parlo anche Di Moltres Zabdos Articuno Prima gen Cioè Non è che Non è che Non è che È una cosa nuova Ecco Diverso Magari Dalle tre bestie Raeku Entei Suicune È diverso Perché lì Appunto C'è la loro Storia dietro Non lo so Io queste cose Non riesco a viverle Quindi Mi dispiace Sempre un po' Vedere questi Pokémon Che vengono Chiamati Leggendari Che poi Vabbè Per definizione Lo sono Per carità Della parola Però Non Non mi dicono Mai niente Fighi Sono fighi Però Insomma È figo Anche Mioscarada È Serulege Cioè Capite No Va bene E In teoria Questo è tutto Cioè Adesso Il Medel Passato Tornerà Con la Questione Della scuola Della lore Del gioco E tutto Però Credo che Questa sia L'ultima parte Più o meno Mi sa che Abbiamo completato Tutto Ok